Ciao, mi chiamo Elisabetta Kakache e sono medico e ricercatrice. Mi sono diplomata alla Scuola Superiore Sant'Anna nel 2016 e attualmente lavoro all'ETH di Zurigo. La mia attività di ricerca ruota intorno a due ambiti. Da un lato cerco nuove strategie terapeutiche per combattere la resistenza agli antibiotici. Dall'altro studio come i batteri che colonizzano il nostro organismo, il cosiddetto microbiota, influenzano il nostro metabolismo. La scuola è stata fondamentale per me per due motivi. Da un lato mi ha fatto scoprire la ricerca di base durante gli anni di medicina, ad esempio supportandomi in molti periodi di ricerca in alcuni dei laboratori più prestigiosi al mondo. Dall'altro la scuola è stata per me soprattutto la sua comunità di allievi, che è stata essenziale per formare il mio spirito critico e alimentare la mia curiosità. Due qualità fondamentali per ogni ricercatore. Se anche tu vuoi entrare a far parte di questa realtà, non esitare ed iscriviti al concorso di ammissione.